Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria e torniamo a parlare di questo bellissimo libro di Mimmo Franzinelli, Disertori, una storia mai raccontata. Le vicende degli uomini che durante la seconda guerra mondiale disertarono dal regio esercito le loro storie, le loro motivazioni e diciamo quello che accadde a coloro che abbandonarono la divisa durante il servizio militare. C'è da dire, allora, come ho già detto in altri video, in questo libro si passa veramente dalla tragedia più atroce alla farsa più sguaiata e pecoreccia, ma veramente pecoreccia. Guardate, si ride per non piangere perché in Russia, a quanto pare, il nostro esercito non è che si fosse fatto una bella fama anche con gli alleati per il comportamento, per quello che succedeva, diciamo. Praticamente dovete sapere che a star dietro ai disertori italiani non erano soltanto i carabinieri e gli organismi militari preposti al cercare i disertori, ma erano anche la Feldgendarmerie tedesca e la polizia locale ucraina, i collaborazionisti ucraini che aiutavano, che fungevano da ausiliari per questioni di ordine pubblico e lotta antipartigiana e caccia ai disertori. Praticamente accade che il 14 gennaio 1942 il soldato Arnaldo Baldan, 23enne di Vigonza, paese del Padovano, contadino nulla tenente e celibe del quinto reggimento Lanceri di Novara, viene arrestato, ripeto, dalla polizia ucraina in quel di Avdeyevke nella casa della cittadina russa Anna Yudin, con la quale aveva trascorso in amore quattro giorni, però il nostro lancere. Delle peregrinazioni brigantesco-sessuali del nostro lancere testimoniano varie donne. Secondo la giovane Kenya Tolstaya, il 6 gennaio giunse nell'appartamento dove mi trovavo e venne per due sere, dopodiché gli dissi che non tornasse più e allora minacciò di spararmi. Stolking antelitteram, se vogliamo. Va bene, va bene, va bene. Baldan, dopo queste imprese, si prende dieci anni di carcere. Tra i numerosi disertori catturati dai tedeschi, spicca il 21enne leccese di San Cesario, Albino Carcagna Cavamonti, nulla tenente, celibe, iscritto al Partito Nazionale Fascista. Fuggito dall'81esimo reggimento Fanderia con un commilitone in circostanze che fanno sembrare il regio esercito né più né meno l'armata Branca Leone. Verso le ore 17 parlano gli atti del Tribunale, parlano gli atti, insomma parlano i documenti del reparto. Verso le ore 17 del 3 novembre 1941, durante la marcia di avvicinamento da Xenitzna a Kershny, il fante Albino Carcagna usciva dalle righe della compagnia per soddisfare un bisogno corporale. Il comandante del plotone ordinava al fante Angelo Cariddi di attendere il compagno per rientrare assieme al reparto. Da tale momento, nonostante le ricerche effettuate dal comando di reggimento, nulla più si è saputo dei due fanti. Considerato che non hanno potuto sbagliare direzione e cadere in mani nemiche, in quanto le due strade esistenti conducono entrambe al luogo di sosta del reggimento, li si denuncia per diserzione al Tribunale Militare dell'Oxir, del Corpo di Spedizione Italiano in Russia. Allora, cosa fa il nostro Carcagna? Trascorre novembre e dicembre a Buros, un villaggetto di quelle parti, per godere le grazie, o come si era detto in un altro caso, per cedere il fiore della propria gioventù, con una diciannovenne russa di cui è perdutamente innamorato. Come e quanto fosse preso da passione per questa giovane, risulta dal fatto che egli fece operare sul dorso della mano sinistra un tatuaggio col nome Ujussa, che è proprio il nome di questa ragazza. Viene catturato in abbigliamento inusuale, con una commistione di capi civili e militari, talmente bizzarra da far dubitare della sua nazionalità. Il tedesco che lo ha scovato gli fa cantare la marcia reale e giovinezza per provare l'appartenenza al regio esercito. Il disertore abbozza una grottesca recita. E vive il re, e vive il re. Chi nate o reggimenti le bandiere al nostro re, la gloria e la fortuna dell'Italia con lui è. Mi sento abbacchiato, scusate. Va bene. Il sottufficiale della Feldgendarmerie Willi Koch è gelido. Il prigioniero è stato fermato stamane a Buros, dove da un mese si tratteneva senza motivo. È sprovvisto di documenti d'identità. Nelle sue dichiarazioni si contraddice. Dichiara di aver avuto ordine di catturare e fucilare i partigiani del luogo. Da solo? Vabbè. Ha altre domande. Dice invece di aver perduto il reparto e di non poter proseguire a causa del maltempo. A Buros si trova ancora un altro italiano, che però non ci è stato ancora possibile acciuffare. Probabilmente si parlava del comiltone Angelo Cariddi. Carcagna è uno dei tanti disertori italiani che da parecchio tempo vengono segnalati nella zona di Buros e che si comportano da sbandati e razziatori di galline. Alloggiano in abitazioni russe, ottengono con la forza generi alimentari. Per mascherare la prolungata assenza, racconta di essere stato catturato dai sovietici, dai quali fuggì ardimentosamente. Ma le sue favole vengono smontate una per una. Come trascritto dagli atti processuali, il Carcagna non appare affatto sciupato, come chi per lungo tempo abbia sofferto la fame. Il suo aspetto è florido e per nulla stanco, quale dovrebbe essere a causa delle emozioni e delle avventure affrontate. Era sbarbato di fresco, mentre dal suo racconto avrebbe dovuto avere una barba di almeno una settimana. Era pulito anche nel corpo, mentre avrebbe dovuto essere sudicio, lercio. Vieni catturato dai russi, i russi ti fanno fa anche la doccia. Dichiarava di aver fatto il bagno in una casa di civili. È assurdo che non conosca i nomi delle località dove era stato. Inverosimile l'affermazione di non aver incontrato per quattro giorni un comando italiano o tedesco a cui presentarsi. I panni erano puliti, specie la camicia di flanella che appariva lavata di recente e non era sbrindellata come avrebbe dovuto essere a causa dei mesi di prigionia. Oltre agli indumenti militari, indossava anche panni civili, quali un maglione di lana e un paio di stivali russi. Era armato con una pistola beretta modello 34 che aveva quattro colpi nel caricatore. Dichiarava di averla presa a un soldato russo la sera della sua fuga insieme a otto rubli buoni e a 250 rubli dell'epoca degli zar trovati lì addosso. Il suo portafoglio conteneva tessere e fotografie, tra cui una, con dedica di una ragazza a nome Chiusia, recante la data 3 febbraio 1942, quando avrebbe dovuto essere prigioniero. Teneva in un taschino un orologio da polso che certo i russi non li avrebbero lasciato. È ben noto l'amore dei russi per gli orologi, ne andavano pazzi, lo sapete bene. Ecco, lo stesso dicasi per il passamontagna e i guanti di lana. Posto dinanzi alle troppe contraddizioni, l'imputato ammette di non essersi mai mosso dal villaggio di Buros per il fatto che nella zona avevo qualche amante. Che fatica la vita da bomber, diceva quello, va bene, scusate, sì, va bene, va bene. Dicevo, per il fatto che nella zona avevo qualche amante che mi attirava irresistibilmente. Ho pernottato un po' in tutte le case del paese ed è stato appunto lì che ho conosciuto la ragazza ucraina della fotografia Gnusia, il cui nome alcuni ragazzi russi divenuti miei amici hanno tatuato sulla mia mano sinistra. È considerato individuo dotato di una certa intelligenza e di un qualche grado di cultura. Non difettano l'abbondante loquela e protervia, tanto che non è stato facile indurlo a confessare la verità, anche dopo che gli erano state lette le dichiarazioni del suo compagno di diserzione. Carcagna, recidivo, viene punito con 24 anni di carcere. Va bene, va bene, va bene, va bene. Insomma, questa storia, la storia del soldato Carcagna, cioè, è, come dire, è una delle tanto grottesche e deliranti vicende che vedono protagonisti molti dei nostri soldati. Come ho detto in un altro video, c'erano ragazzi di vent'anni che si innamoravano perdutamente e fuggivano perché non volevano abbandonare la fidanzatina, non volevano abbandonare la fidanzatina russa che si erano trovati. Va bene, ne ho parlato che sono cose anche che ti fanno te... Ma cioè, ma sto carcando. Cioè, veramente, e, cioè, mi vengono in mente facilissimi battutacce, cioè, questo qui, dalle mie parti c'è un detto che la donna ti fa la donna si dice quella che ti ha fatto tarmagna, cioè, quella da cui tu sei uscito, insomma, sei uscito da una donna ma la parte della donna da cui sei uscito ti si mangerà vivo per il resto della tua vita e carcagna evidentemente non come dire, non è in grado di resistere alle attrattive moglie ebri dei talami dei locali talami femminili cioè, insomma, 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 che vi posso dire? Cioè, io vi giuro, leggendo queste parti del libro di Franzinelli, cioè, io vi giuro che mi è venuto da ridere, è quello che, cioè, abbiamo un nuovo eroe, cioè, qui abbiamo veramente, cioè, 50 sfumature di lancere, cioè, qualcuno ha detto, c'è 50, cioè, qui siamo a 50 sfumature di fante, c'è, 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 il classico, cioè, guardate, guardate, vi giuro, io, mi, questa scena, il carcagna, mi ricorda certi personaggi che ho incrociato quando facevo il disey a Rimini e dintorni, lavoravo in locali sul lungomare riminese, logicamente, nel lungomare riminese e ci sono tante ragazze, ci sono tanti ragazzi, ci sono i tacchinatori, ci sono i carcagna di turno, ci sono, che si divertono, cioè, cioè, io vi giuro, ragazzi, quando ho letto queste cose, cioè, mi è venuto da ridere, cioè, vi giuro, ho rivisto, leggendo le geste di carcagna, ho rivisto certe cose del, della fine degli anni Ottanta, primi anni Novanta, quando cominciavo a fare il disjockey, i rock e metal in, in certi locali di Rimini, cioè, vi giuro che, quello che ho visto, cioè, mi ha ricordato proprio certe scene, cioè, proprio certe scene che ho visto all'epoca, e, e non posso fare a meno veramente di mettermi a libera. Insomma, signori, adesso, comunque sia, tocca a voi, qua sotto, commentate, e fatemi sapere che cosa ne pensate, vi prego, vi supplico, vi supplico, tiratevi su, un po' su il morale, non riesco a stare serio, abbiamo un nuovo idolo, il soldato Carcagna, ecco, va bene, va bene, signori, va bene, niente, come sempre, qua sotto, commentate, per favore, vi prego, commentate, non mi fate morire a ridere, ripeto, commentate, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, che è gratis, e non costa nulla, e, come sempre, arrivederci, al mio prossimo video, e soprattutto, ciao! Ciao!